Se hai un gatto, probabilmente hai notato che ama trascorrere le ore del riposo in tua compagnia, spesso scegliendo il tuo letto come suo posto preferito. Ma ti sei mai chiesto perché vuole dormire proprio lì e cosa ti dice la sua posizione preferita riguardo al legame che condividi con lui? Preparati a scoprire i segreti di questo comportamento felino affascinante. Prima di iniziare, però, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale. Inoltre, assicurati di accedere all'Accademia di Crescita Personale che trovi in descrizione per iniziare oggi stesso il tuo percorso verso il benessere e la pace interiore. E ora, cominciamo. Innanzitutto, comprendiamo il dove e il perché. Il tuo gatto potrebbe avere l'intera casa a disposizione per i suoi pisolini, ma la scelta ricade su di te, il suo compagno umano. Questo gesto, apparentemente semplice, è in realtà un'affermazione di fiducia, amore e sicurezza. Esaminiamo quindi insieme cosa significa quando sceglie specifiche zone del letto. 1. Vicino alla testa. Un segnale di affetto puro. Dormire vicino alla testa del suo umano preferito, o addirittura sul suo cuscino, è una delle sue massime espressioni di fiducia e affetto. È un modo per rimanere vicini, per ascoltare il ritmo tranquillo della tua respirazione durante la notte, che rappresenta un suono rassicurante che lo calma. È anche un posto privilegiato per catturare il calore che si irradia dalla tua testa, rendendolo un luogo confortevole e rassicurante per il riposo. 2. Hai i tuoi piedi. Indipendenza e sicurezza. Se il tuo gatto preferisce i piedi del letto, non ti sta semplicemente togliendo il freddo, ma questa posizione gli permette di godere della tua vicinanza, garantendogli al contempo un'agevole via di fuga in caso di necessità. Riflette l'equilibrio tra il suo bisogno di indipendenza e il desiderio di sentirsi parte della tua famiglia. 3. Sul petto. Legame profondo. Quando un gatto sceglie di dormire sul tuo petto, è un segno di un legame profondo e di massima fiducia. Sentire il battito del tuo cuore e il ritmo della tua respirazione gli fornisce un senso di sicurezza e conforto ineguagliabili. Questa posizione consente anche un'interazione faccia a faccia al risveglio, rafforzando ulteriormente il vostro legame. Quanto alla sicurezza, è sicuro dormire con il proprio gatto? Dormire con il tuo gatto è un'esperienza che porta benefici sia a te che al tuo felino. Alcuni studi hanno dimostrato che il ronroneo del gatto può avere effetti calmanti sull'umano, riducendo lo stress e promuovendo un sonno di qualità. Tuttavia, ci si chiede se sia al 100% sicuro. Dormire con il proprio gatto può essere sicuro e addirittura vantaggioso per alcuni, ma è importante considerare diversi fattori per assicurarsi che sia una scelta positiva sia per te che per il tuo amico felino. Per esempio, se sei allergico ai gatti, dormire con loro potrebbe aggravare sintomi come starnuti, prurito e congestione nasale. In questo caso, potrebbe essere meglio mantenere la camera da letto libera dagli animali. Inoltre, i gatti sono animali crepuscolari, il che significa che sono più attivi all'alba e al tramonto. Questo potrebbe tradursi in interruzioni del sonno se il tuo gatto decide di giocare o muoversi durante la notte. Un altro punto da considerare è la salute del gatto. Assicurati che il tuo gatto sia sano e regolarmente trattato contro parassiti come pulci, zecche e vermi per evitare la trasmissione di malattie. Infine, soprattutto per i gattini piccoli o i gatti molto anziani, c'è il rischio che possano essere accidentalmente feriti se ti muovi nel sonno. Assicurati che ci sia spazio sufficiente e che il tuo gatto possa facilmente allontanarsi se necessario. Il luogo scelto dal tuo gatto per dormire con te è un vero e proprio indicatore della vostra relazione. Ogni posizione ha un significato speciale che rivela il livello di affetto, fiducia e conforto che il tuo gatto sente in tua presenza. Celebrare questi momenti può approfondire il legame unico che condividi con il tuo amico peloso. Grazie per averci seguito in questa esplorazione del mondo felino. Ricorda che ogni gatto è un universo a sé e comprendere i suoi comportamenti ti avvicina ancora di più a lui. Se il video ti è piaciuto, lascia il tuo prezioso mi piace e condividi con noi le tue esperienze con il tuo amico peloso nei commenti. Inoltre, ti ricordiamo di entrare nell'Accademia di Crescita Personale che trovi in descrizione per iniziare da oggi il tuo cambiamento verso una vita più calma e consapevole. Ci vediamo nel prossimo video.